Sono al trentesimo episodio e mi ritrovo in questo schifo per tenere due cacchio di animali, ma io non ci sto Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla E quest'oggi andremo a fare una cosa molto molto utile per i miei animali Allora, allora, iniziamo Io comprendo questi poveri animali che si trovano ormai in un'orgia, cioè proprio in un'orgia Si è chiusa adesso la porta, in un'orgia perché c'è E' un bordello questo, non è un allevamento qualsiasi maio, no, è un bordello, qualsiasi cosa Ci sono un casino di uova inoltre Quindi, in questo episodio faremo la stalla Ma non la stalla solo per i cavalli, ma anche per gli altri animali Quindi, pecore, mucche e maiali Mentre le galline per adesso le lasciamo qua dentro E poi, nel prossimo episodio, rifarò la farm che ho fatto nella stagione scorsa di Minecraft Ehm, di galline Soltanto che ci aggiungerò il clock che ho fatto nello spawn di scheletri Ehm, per renderla più, ehm, automatizzata Quindi, ehm, allora Questa stalla La farò Come vedete dal mio inventario Con gli oak wood Con l'oak wood E, ehm, con le oak leaves E allora Ehm, come vedete Ho anche delle shields nuove Perché ho rotto un casino di foglie E ho rotto un casino di alberi Perché mi servivano tanti Tanti, tanti log Tanti oak wood, scusate E anche tante foglie Inoltre, come vedete La mia bella scetta È incantata È un breaking 3 e efficiency 3 Allora Qualche giorno fa Giocavo off camera, così Mi stavo prendendo un po' di legno E Dato che mi stavo rompendo le palle L'ho incantata Tipo di 19 livelli Quindi nemmeno stato al 30 Sono andato nell'incente in tempo Boh, ce l'ho piazzata Ho messo 19 livelli L'ho incantata E mi sono preso tanto legno Il giorno dopo però Ho deciso di fare la stalla Però ormai Quel legno L'avevo tutto quanto trasformato Tutto Pure il dark wood L'avevo trasformato E guardate Ho 3 stack non trasformati E sono andato pure nella Nel portale del nether E sono andato a prendere altri Sapling Del dark wood Comunque Guardate qua sopra Ho fatto gli altri due tetti Sopra le torri E a me piace Ci ho messo un bel po' Perché Ho dovuto usare un casino di clay Per fortuna che ho trovato Dei piccoli laghetti Con della clay Qua Laggiù Mamma mia Un casino Veramente Però Tutta sta fatica Mi è piaciuta Cioè È venuto fuori Un bel lavoro Quindi Iniziamo a fare La nostra stalla Soltanto che Farò Due stalle Per adesso E come vedete C'è già Un inizio Allora Prima Finiamoci Di prendere Tutto quello che serve Cioè Hawkwood Hawk leaves Poi Prendiamo Del glass Della bone mill E Ci facciamo Ehm Wait 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 Ho fatto il contrario Ok Vieni qua Questi I white stained glass Posso fare un altro Sì Wei wei Ok Poi Con questi Facciamo i pannelli Eccoli qua 32 Pannelli Così Stained glass Quindi Stained glass Pane 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 Ehm Quindi andremo a utilizzare Per la prima volta In questa stagione Ehm I nuovi Il nuovo vetro Aggiunto Nella 1.7 Però in che modo Adesso ve lo faccio vedere Allora andiamo a fare la stalla Allora il mio design Dice Ehm Allora La mia stalla È fatta Allora Iniziamo Mettiamo 3 OAC Da questa parte 1,2,3 E poi facciamo una colonna Sempre di OAC Alta 4 Ok Sì 4 È la stessa cosa di qua 4 E poi Andiamo a chiuderla Così Perfetto Poi qui c'è L'entrata 1,2,3 E poi qui facciamo l'altra colonna 2,3 E 4 Ok E poi Qua facciamo la stessa cosa Abbiamo fatto all'altro lato 1,2,3 E 4 Perfetto Allora in pratica Mh Non sapevo bene come fare Questa cacchio di stalla Cioè vi giuro Ho provato diverse Diverse Combinazioni In creative Però non sapevo Davvero come farla E L'ho Pensata Così In questa maniera Quindi noi adesso Qua c'è L'entrata Dove sono io adesso Mettiamo Le OAC Leaves Qua 1,2,3 1,2,3 1,2,3 E poi Sopra Alle OAC Leaves Andremo a mettere I White Stained Glass Pane E Eccolo 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Ok perfetto Allora La combinazione con questi Tra foglie E white Stained Glass Pan Pane Mi è piaciuta molto Perché come vedete Fa Diciamo Luce Cioè Passa la luce Quindi mi piace davvero molto Il tetto Lo faremo sempre In OAC Leaves Quindi Lasciando però Al centro Uno spazio Per la Glowstone Ok Ok Ecco qui La prima stalla Allora Metterò Due stalle Diverse Per i due cavalli Poi Un'altra stalla Per le pecore Un'altra stalla Per i maiali Un'altra stalla Per le mucche Quindi Qua Queste prime due Facciamo i cavalli E poi qua Facciamo maiali Pecore E mucche Quindi facciamo anche La seconda stalla E poi off camera Continuerò E farò le altre Quindi Partiamo da qua Mettiamo I tre OAC Così sdraiati E poi prendiamo Quattro In deltezza Perfetto E anche da questa parte Ok Poi uno Due Tre Quindi Andremo A fare una sorta Di Di L Come tra le stalle Che Viene davvero Abbastanza bene Dai E Ah no Qua no No Le cesoie Ok Qua sbagliato Qua è così Perfetto E poi qua Con le cesoie Ok Qua c'è la clouston Ok Scusate Piccolo errore E Quindi qua Vieni qua Uno Due Tre Uno Dove sei Dove sei Uno Due Tre La clouston Sta qua Si Uno Due Tre E quattro Ok Poi Mettiamo Le foglie Lasciamo lo spazio Boh Facciamo la stessa cosa Qui Oh Che cacchio De lag E poi Foglie Come prima E White Stained Glass Pane Epici E Uno Due Tre Uno Due Tre Uno Due Tre Ok Ecco le nostre Due stallette Perché sono piccoline Diciamo Allora qui Quindi in questa E poi qua ne farò un'altra Mettiamo i cavalli E poi gli altri Gli animali Quindi adesso Vediamo un attimo Allora Qui Ci rimarranno Due mucche Che vado a spostare Due pecore Quindi qua faccio Tipo la strage Una strage Una strage Proprio Uccido Tutti Uccido Stando attento Naturalmente ai cavalli Quindi ci vediamo Tra poco Finisco di fare Quette E poi Potto tutti gli animali E quindi ci vediamo Tra poco A dopo Allora ragazzi Le stalle Sono Concluse Cioè Lo ho finite Qua c'è un'esperienza E Lo Finite Anche nei minimi dettagli Ad esempio Ho messo I cancelletti E le fence Qua c'è un altro punto Esperienza Ok Ho messo la glowstone Sopra E come vedete Allora Qui ci sono due cancelletti Una fence Perché appunto Il cavallo per passare Deve avere Di spazio due Poi Per le pecore Le mucche I maiali Ci sono due fence Un cancelletto Così basta Tra l'altro A questo E Poi E' anche facile Perché vedete Li posso dare da mangiare Tranquillamente Certo poi Devo killarli Perché poi Diventano troppi E questo è uno spazio piccolo Quindi si Dopo li devo uccidere E ho dato da mangiare Sia ai maiali Che alle mucche Che alle pecore Così c'è una terza Un terzo animale Nel recinto E poi qui Ho abbassato di uno La terra E ci stanno I polli qua Che Cagano uova Proprio A go go Ehm Poi dicevo 5-6 uova E Ne sono usciti 4 Cioè Non E' poco Poco probabile Che uscissero 4 Su 6 uova Tipo E sono usciti 6 6 piccoletti Non so se Si è bugato Che so Dove è andata a finire Non lo so Vabbè Comunque esco Così E poi ho visto Anche se Provavano Cioè se Riuscivano a scappare Riescono a volare Fino qua Però poi non riescono Andare fino All'ultimo blocco E quindi Ad uscire fuori Quindi Per adesso Va bene E così Nel prossimo episodio Ehm Off camera Farò la farm Di galline Adesso vedrò Pure da dove Dove la metterò Comunque metterò Il clock Come ho detto prima E poi qui invece Ehm Le farm Come vedete Ci sono 3 patate 3 carote E 3 di grano Quindi Perfetto Sono divise In maniera Equa E Adesso Ehm Ah Naturalmente Per finire tutte le stalle Tutte queste Naturalmente Il legno Non mi è bastato Ho dovuto fermare Un altro quarto d'ora 20 minuti Gli alberi E Per sbaglio Tipo ho messo la bombilla Sulla terra E mi è uscito questo Mi sono usciti questi qua Come si chiamano Gli azzur bluet Quelli ho piazzati qua Infatti se vede Ci sono gli azzur bluet Poi ci sono I fiori rossi I fiori gialli Questi Questi Oh Poi me le ho Le oxy daisy Poi come vedete Quaggiù Ci sono due Oxy daisy Così Messe random Perché pure qua Per sbaglio Ho messo la bombilla Non mi ricordo il perché E sono usciti tutti sti fiori random Comunque Che sta stalla Mi piace Davvero molto Anche adesso Che le ho fatte tutte 5 Quindi c'è qualcosa di nuovo In questo mondo Finalmente Una nuova struttura Poi Non so se sposto Queste Cioè le farm Dentro questa torre Devo decidere Comunque adesso Andiamo Di sotto Perché Voglio far vedere Una cosa che ho fatto Off camera Allora Off camera Mi sono messo a pescare Ed è stato davvero Molto Buono Perché Se adesso mi ricordo Dove ho messo i pesci I pesci Ah no Qua eccoli Stanno qua Ecco Ho pescato Due pufferfish Due No Si un salmon Perché ce ne avevo già uno E sei o sette pesci Raw fish E Per chi non lo sapesse Con il pufferfish Il pesce palla Si può fare un tipo di pozione Che adesso Andremo a fare Allora Comunque È stato bello Pescare Perché Stavo lì fermo A pescare All'inizio volevo solo i pesci Per i gatti Quindi Raw fish E Si vedevano L'acqua Si vedeva l'acqua Si vedeva il pesce Tipo che faceva tutto il suo viaggetto Poi arrivava l'amo L'amo scendeva E io tiravo con il tasto destro L'amo E Mi veniva il pesce Quindi È stato Diciamo Hanno aggiornato davvero bene Questa cosa dei pesci Soltanto adesso io non ho Ce l'ho un posto per fare le pozioni Si Cioè per fare La pozione con i pufferfish Si questo Dato che questo è instant health Questo è force Questa è Fire resistance Questo è weakness E questo è velocità Ok Le anchored Non le ho viste Qua in giro E quindi Vado a prendere Bottigliette d'acqua Tanto ce l'ho qua sotto Si Se non qua No non credo No ok E Faccio le Anchored potion E poi posso fare Le pozioni Con il pesce palla Che Andranno a fare Devo farmi altre bottigliette Andranno a fare le pozioni Di respirazione sott'acqua Quindi Facciamoci Se tre bottigliette Vabbè C'erano quattro Mettiamo tutte e quattro Qua Nella mia fonte Infinita E torniamo su Tanto qua il gattino Ci copre da Possibili attacchi di creeper Ah a proposito di creeper Se vi ricordate Nello scorso episodio Avevate visto che qua Là dietro il muro Era aperto Ok Era aperto Io sono andato nel nether Per prendere I roofhead Darkwood No aspetta I darkwood sapling Nel nuovo bioma Perché dovevo Devo andare nel nether Nell'altro portale che ho E Appena sono arrivato nel nether Ho trovato un creeper Una strega E uno zombie Il creeper è scoppiato Ho avuto il riflesso Di mettere il tasto destro Quindi di proteggermi Però Ma È scoppiato Il portale Del nether Per fortuna Io ho là la cesta Con l'accendino E l'ho rifatto Poi mi ha rotto Pure la cobbia Sto intorno E Con lo scoppio Sono morti Sia la strega Che lo zombie Quindi non ho avuto Altri problemi Però Mi sono messo paura Perché tipo Stavo tutto tranquillo All'improvviso Boh Lo scoppio Allora Mettiamo il pufferfish E facciamo La nuova posizione Aggiunta nella 1.7 Quindi Cioè Infatti ho subito Chiuso Dopo Anche Dopo Dopo Camera E quindi Mi sono salvato Un po' Perché C'avevo pure Quest'armatura Cioè In oro In oro E stivaletti Non mi chiedere Perché Ma è l'unica Che c'avevo Nella cesta Libera Che volevo Usare Quindi l'ho preso Se magari Fa Una pozione Sta laggando A bestia Aspettate Ok Si è ripreso Eccole qua Potion of Weather Breathing E Mettiamo qua E Andiamo A provarle Andiamo Sott'acqua E Andiamo A vedere Un po' Vabbè Scusate Tanto due Le vogliamo Perché tanto Ne beviamo Una sola Sperate Poi Vediamo Dopo Lasciamo questa Water bottle qua E Andiamo nell'acqua Così vi faccio vedere Pure dove Mi sono messo a pescare Allora Qua si è chiuso Ok Io sono andato Verso questa parte Mi sono fatto Tipo Una Torretta Con la terra Alta 2 Mi sono messo sopra La terra Ah Qui inoltre Vedete Ho messo Le canne da zucchero L'ho L'ho messe fino a Qua giù Qua giù Sono Vedete Messe in questa maniera E poi In quest'altra maniera Qua sono Dretta E di là pure Sono uguali Le misure Non dovrebbero essere le stesse Però vabbè Sembrano uguali Dai Credo Siano quasi esatte Comunque Passion of water breathing Ripendiamo Vediamo Ok Vedete Non so se adesso Riuscito a vedere bene Ma comunque Le bollicine Non scendono Grazie a questa pozione Quindi io Dato che sono qui Posso tranquillamente Brandere la clay Io la prendo Perché tanto Non si sa mai Magari serve In qualche Altro progetto Io mi avvantaggio E dato che Adesso posso Con queste nuove pozioni Lo faccio subito Dato che L'ho appena bevuta Quindi La uso Tanto sono tre minuti In tre minuti Ne prendo giusto un po' Eccolo Guardate qua Quanta ce n'è E io S'ho dovuto andare Fino In culonia Per prenderne un po' Perché Naturalmente Fino a qua giù Tipo Prendevo un po' di clay Morivo E mi finivano le bolle Quindi si Morivo Soffocato Nell'acqua Ho rischiato più volte Di morire Molte 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 Comunque Quanti Ancora un minuto e 57 Quindi posso prendere Tutta questa clay E tornare in superficie Non vi è sta un altro Un po' Alla test Alla mia destra Adesso vediamo Se ho visto bene No Ho visto malissimo Perché non c'è Quindi facciamoci un altro Un ultimo giretto Qui Quella che è No Quella è sabbia Non c'è Ma su serio Eccola laggiù Credo Madonna Guardate quanta ce n'è Se è tutta clay No E' così Clay Clay E' un bel po' Eh Vabbè Prendiamo giusto questo E poi torniamo su E torniamo a casa Così Terminiamo Allora Vai Vai di clay Comunque molto Molto interessante Questa Pozione Anche se Un altro modo Per Non morire Sott'acqua Potrebbe essere Incantarsi L'elmetto Con qualsiasi elmetto Sperare Che esca Respiration Perché c'è Un chant Che è appunto Respiration 47 secondi Io Romperei Questi due pezzetti Tanto stanno qua Da soli Li rompo E torno su Tanto c'è anche Il tempo di risalire su Sì dai Ce la faccio Comunque vedete Anche tutti i buchi Che ci stanno E' per Perché ho preso la clay Da qualsiasi parte Appena la trovavo Poi magari un giorno Vi facciate pure il laghetto Che c'è laggiù Che è tipo Pieno di buchi Perché C'era un casino di clay Comunque Da qui Da davanti al cavallo O da sopra al cavallo Da sopra al cavallo Vi dico che Questo episodio E' finito Spero vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace Di commentare E se non avete ancora fatto Di iscrivervi al canale La pagina facebook E' in descrizione E anche il sito web Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao a tutti 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 Ciao a tutti